Iniziamo la correzione del test, anzi non la correzione, la spiegazione, in modo da poter ripetere il test, per chi ha bisogno di ripeterlo, con un'occhiata a questa tavola che si trova sempre a pagina 179, dove sono contenuti i numeri di ossidazione più comuni degli elementi. Quindi più comuni significa che non ci sono proprio tutti, ma la prima cosa che probabilmente uno noterà è che ci sono parecchi elementi che hanno più di un numero di ossidazione. E' chiaro che questo dipende dai diversi composti in cui questi elementi si possono trovare combinati. Nel caso dei gas nobili, chiaramente il numero di ossidazione più comune è zero perché solidamente non formano composti, e quindi si trovano solo allo stato elementare, cioè come gas monoatomici, e quindi il numero di ossidazione è zero. Per i gruppi principali il numero di ossidazione più positivo coincide con il numero del gruppo, tranne che per il fluoro, vediamo che abbiamo tutti più uno dei metalli alcalini, tutti più due dei metalli alcalino terrosi e abbiamo poi tutti più tre come numero massimo per il gruppo 3A, il più quattro come numero massimo per tutti i metalli del gruppo 4A, più cinque come numero massimo per gli elementi un po' non metallici, un po' semi metallici, un po' metallici del gruppo 5A, e poi abbiamo anche l'ossigeno che non può raggiungere il numero di ossidazione 6, mentre tutti gli altri sì. Nel polonio lasciamolo perdere, che comunque è un elemento radioattivo che è poco utilizzato. in chimica, viene utilizzato più che altro dalle spie russe. E poi abbiamo il gruppo 7A, dove gli elementi più pesanti, degli alogeni, quindi sono tutti dotati del numero di ossidazione più 7, tranne il fluoro, per lo stesso motivo dell'ossigeno, cioè che non potrà mai avere più di... non potrà mai avere più di 8 elettroni nel guscio di Valenza. È evidente che per avere più 7 bisogna avere la possibilità di condividere un numero di elettroni maggiore di 8. Quindi questa è l'occhiata dei gruppi principali. Per quanto riguarda gli elementi di transizione, i metalli di transizione, dove non c'è scritto niente, significa che non vogliono che noi ce li leggiamo e ce li studiamo, ma perché vengono messi soltanto quelli degli elementi più comuni. Quindi abbiamo l'argento e l'oro, ma non abbiamo il regno e il rutenio, che sono piuttosto rari. La cosa importante da avere è che praticamente, a differenza degli altri metalli, alcalini, alcalinoterosi e anche del gruppo 3A, dove solo il taglio ha una variabilità importante, in quel caso praticamente quasi sempre abbiamo una serie di diversi numeri di ossidazione, per esempio il manganese, e poi consideriamo che questi sono solo quelli principali. potrebbe esserci, per esempio, un ferro con numero di ossidazione più 6, magari soltanto in un paio di composti, però qui non c'è stato messo, perché non è così comune questo numero di ossidazione per il ferro, mentre sono molto comuni il numero di ossidazione più 3 e anche il più 2 in atmosfere non ossidanti, cioè non all'aria. Allora, quindi possiamo andare avanti e vedere qui il test. In questa prima domanda non ci viene chiesto nessun numero di ossidazione, ma semplicemente di dire quali sono le cariche elettriche degli ioni fosfato che si trovano in questa sostanza ionica. Quindi ci dobbiamo arrivare, così come abbiamo visto a lezione, il calcio deve essere per forza l'ione CA++ perché è un metallo alcalino terroso. Siccome di questi ioni calcio ne abbiamo 3, e il discorso diventa puntini puntini, nel senso che possiamo risalire a quante saranno le cariche negative dei due ioni fosfato. Ce ne sono due. Quelle positive sono più 6. E quindi andiamo avanti perché poi questo ione PO4 da soli chiaramente dovrà avere una carica negativa. Allora, passando al secondo quesito, qual è il numero di ossidazione del non metallo fosforo nell'acido fosforico? Qui abbiamo quindi un caso di applicazione della regola, torniamo a vedere la regola, della regola 9. In una molecola o un'unità formula la somma algebrica dei numeri di ossidazione è uguale a 0. Nella maggior parte dei casi, anzi sempre, per gli obiettivi che ci poniamo noi, non dovremo andare a scrivere la formula di struttura, andare a scrivere tutti gli elettroni, le coppie di punti e i legami. Ci basta la formula ed applicare altre regole. In questo caso abbiamo l'ossigeno e l'idrogeno che ci sono dati da regole. Non è un caso eccezionale né per l'ossigeno, regola numero 4, né un caso eccezionale dell'idrogeno perché non abbiamo un idruro metallico, abbiamo la formula di un osso acido. Quindi, applichiamo la regola 3 e 4. Nell'applicare la regola 1, 3 e 4 di pagina 178, cioè come c'era scritto nel quesito, la 1 in questo caso non ci serve a niente. Sono semplicemente la regola 3 e 4, semmai ci serve la 9, la 3 e la 4. Cioè la somma deve fare 0. Però non lo facciamo sull'acido fosforico, ma lo facciamo su un altro acido. Per esempio, possiamo prendere, non so, l'acido nitrico, l'acido nitrico la cui formula è HNO3, vogliamo ricavare il numero di ossidazione, oppure no, prendiamo un altro acido dove ci sia più di un idrogeno, per esempio l'acido cromico, e andiamo a vedere il numero di ossidazione del cromo in questo acido. Cominciamo con la regola dell'ossigeno. L'ossigeno ha numero di ossidazione in meno 2. Il numero di ossidazione non è una carica reale, ma facciamo finta che lo sia. E quindi, se qui noi mettiamo 4 atomi di ossigeno con numero di ossidazione in meno 2, il totale è meno 8. Nel caso dell'idrogeno, che sono 2, la regola ci dice che il numero di ossidazione è più 1, facciamo finta che sia una carica reale, e il totale di due cariche reali più 1 è più 2. Allora, se tutta la molecola o questa formula deve avere complessivamente 0, dato che qui non c'è nessuna carica, quindi non stiamo parlando di uno ione, stiamo parlando di una formula di una sostanza e tutte le sostanze sono neutre. Quindi non ci deve essere scritto lo 0, dobbiamo capire da soli che se si sta parlando di una sostanza la somma di tutte le cariche e anche di tutti i numeri di ossidazione deve essere nulla. Cioè la sostanza deve essere neutra. Quindi che cosa ci manca per avere 0? facciamo 4 per 2, 8, meno 2, 6. Cioè se qui ci mettiamo un più 6 arriviamo a 0. Quindi il numero di ossidazione del cromo sarà più 6. Qual è la regola più rapida? La regola più rapida è quella che ho appena fatto. Ossigeni per 2, meno idrogeni. Quindi 4 per 2, meno 2. 4 per 2, 8, meno 2, 6. E ci vogliono 2 secondi. Quindi sceglieremo qui il più 6 che però non c'è perché noi dobbiamo fare la stessa cosa all'acido fosforico. Passiamo all'esercizio numero 3. Qui ci dice invece quale elemento coinvolto cambia il numero di ossidazione. Allora bisogna che scriviamo tutta l'equazione di reazione perché abbiamo l'anidride carbonica CO2 che reagisce con l'acqua H2O e poi si forma l'acido carbonico H2CO3 c'è scritto quindi non ci dobbiamo inventare niente e poi come abbiamo fatto fino adesso dobbiamo andare a trovarci i numeri di ossidazione del carbonio dell'ossigeno dell'idrogeno e in tutte e tre queste molecole reagenti e prodotte e andremo a vedere se quello che cambia è l'ossigeno l'idrogeno il carbonio o nessuno dei tre. Questo quindi lo possiamo fare autonomamente. Andiamo al 4 in quale composto l'azoto si trova al maggiore stato di ossidazione. Bisogna fare la stessa cosa applicare la regola dell'ossigeno in questi due casi cioè l'ossigeno è meno 2 e quindi per esempio l'azoto dovrà essere in questo composto nel monossido di azoto dovrà essere più 2 perché se questa è una sostanza e la somma deve fare 0 se uno è meno 2 quell'altro deve essere più 2 e il totale è 0. Qui dobbiamo aggiungere anche la regola dell'idrogeno e quindi ricordarci quello che ho fatto un minuto fa con l'acido cromico. Quale anidride ha il non metallo con il maggior numero di ossidazione? Stessa cosa solo che questa volta non abbiamo le formule. a parte l'anidride carbonica che la conosciamo si parla di anidridi quindi evidentemente sono anidridi anche queste chiamate con diossido 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 e le formule le sappiamo perché diossido significa che ci sono due ossigeni e un azoto due ossigeni e uno zolfo due ossigeni e un selenio quindi il 5 diventa uguale al 4 con anche la maggiore semplificazione del fatto che l'idrogeno non c'è mai abbiamo solo un non metallo e l'ossigeno. Per quanto riguarda il 6 abbiamo trovare l'anidride col non metallo più ossidato e quindi questa è l'occasione forse che mi ero lasciato che mi ero dimenticato prima per dire ma se questi numeri di ossidazione non sono delle cariche reali ma sono semplicemente dei numeri assegnati con delle regole convenzionali ma allora a che servono? Servono per poter dire tra vari composti se c'è stata ossidazione o se c'è stata riduzione perché anche se noi abbiamo utilizzato delle regole convenzionali il fatto che queste regole sono sempre le stesse per tutte le reazioni per tutte le sostanze elementari e non ci permetteranno queste regole di stabilire se una sostanza ha subito ossidazione cioè praticamente se ha ceduto elettroni o li ha condivisi con qualcosa di più elettronegativo oppure se li ha acquistati elettroni e quindi subendo riduzione che è il contrario dell'ossidazione prendendoli formando ioni negativi o meno positivi o riducendosi da da uno stato ossidato più ossidato riducendosi a uno stato elementare per esempio cioè scendendo da un valore positivo o a zero oppure se ha condiviso elettroni con qualche elemento meno elettronegativo che è un altro modo di prendere elettroni anche se parzialmente quindi in ogni caso la regola del numero di ossidazione l'assegnazione dei numeri di ossidazione prima e dopo una reazione chimica ci permetterà di capire se un dato elemento che ha preso parte a quella reazione si è ossidato o si è ridotto e questo invece è una considerazione che in chimica non è puramente convenzionale è una considerazione che ha dei risvolti molto sperimentali e molto pratici per esempio tutte le batterie comprese le pile o celle a combustibile funzionano in questa maniera cioè al polo positivo della batteria al catodo della batteria ci sarà un elemento che subisce riduzione e al polo negativo cioè quello che fornisce gli elettroni al circuito elettrico ci sarà invece l'ossidazione di qualche elemento quindi quello che è convenzionale per il semplice fatto che stiamo applicando le regole in maniera coerente ci sarà la possibilità di prevedere da che parte girano gli elettroni all'interno di una batteria e anche altri fenomeni che saranno previsti nella maniera giusta se noi sappiamo appunto se un elemento subisce ossidazione o riduzione il convenzionale diventerà reale quindi è importante ecco perché ci stiamo accanendo su questi numeri di ossidazione allora quindi fatto questo andiamo al 7 perché l'anidride carbonica CO2 finisce con ICA mentre SO2 è un nome che termina con OSA anidride solforosa pur essendoci due atomi di ossigeno nelle molecole di entrambe le sostanze gassose cioè tutte e due sono SO2 e CO2 tutte e due hanno due ossigeni però una si chiama OSA e una ICA strano e allora qui dobbiamo scegliere tra le quattro opzioni dopo averle valutate attentamente quindi potremmo anche andare a vedere sulla tabella per esempio quella di prima che ci potrebbe aiutare questa tabella dove ci sono i numeri di ossidazione più comuni potrebbe servire anche per andare a vedere altri casi simili a questo quindi andare a vedere la tabella poi per quanto riguarda il numero 8 in un quale osso acido il non metallo possiede numero di ossidazione maggiore ma qui è molto facile ragazzi applichiamo la regola del ossigeni per quanti ossigeni due per quanti ossigeni ci sono meno gli idrogeni in due per quattro otto secondi avete trovato qual è la risposta corretta 9 qual è il numero di ossidazione del manganese nell'acido per manganico e questa è uguale identica all'otto cioè applichiamo la regola ossigeni per quanti il numero di ossigeni per due meno gli idrogeni e troviamo il numero di ossidazione nel passare dall'anidride numero 10 all'osso acido il non metallo conserva lo stesso numero di ossidazione ma questo è molto interessante potremmo prendere un esempio per esempio l'anidride cromica visto che è un esempio che abbiamo già trattato il cr l'anidride cromica ha questa formula e quindi il numero di ossidazione lo troviamo con la regola numero 4 dell'ossigeno l'ossigeno è meno 2 meno 2 ripetuto per tre volte fa meno 6 quindi il totale è meno 6 e allora il cromo deve essere più 6 perché l'anidride è una sostanza e il totale deve fare 0 ok bene adesso trasformiamo questa anidride come abbiamo visto in un acido tutte le anidride hanno una caratteristica comune con l'acqua formano ossoacidi e la formula dell'ossoacido cromico l'abbiamo vista prima è H2 CR cromo O4 e andiamo a vedere adesso anche volendo il bilanciamento della reazione anche se in realtà non è essenziale perché noi ci serve solo di andare a vedere il numero di ossidazione del cromo nell'acido cromico comunque in questa reazione ci sono 4 atomi di ossigeno nei reagenti 4 nei prodotti 1 cromo e 1 cromo nei reagenti dei prodotti 2 idrogeni e 2 idrogeni nei reagenti e nei prodotti quindi è bilanciata e nessuno deve osare pensare che questo sia il risultato di una addizione non ho fatto l'addizione algebrica è semplicemente una coincidenza che la formula di questa sostanza è solo questa e non è il risultato di un'addizione tra due quantità algebriche e così come è un fatto sperimentale che la neride cromica abbia formula CrO3 tanto è vero che se io faccio questa reazione qui non si formerà acido cromico o almeno non si formerà solo quell'acido cromico lì si formerà anche un po' di acido cromico e forse è bene che io faccia vedere questo esempio per fare capire anche ai più ostinati che la chimica non ha niente a che fare di coefficienti forse è il caso che io li metta dopo la chimica non ha niente a che fare con l'algebra quindi se io faccio la reazione cioè prendo un po' di questa sostanza arancione rossiccia che è l'anidride cromica e la metto con l'acqua avrò una reazione abbastanza violenta si formerà qualcosa di giallo arancio completamente sciolto in acqua che sarà in realtà una miscela di questi due acidi cioè ci sarà anche l'acido di cromico alle entità molecolari gli ioni le molecole eccetera non interessa assolutamente nulla della nostra algebra loro fanno quello che vogliono e quindi si forma anche questo qui e qui vediamo appunto giustifico quello che dicevo prima che qui c'era la coincidenza nella reazione A ma nella reazione B che avviene insieme alla reazione A nella pratica sperimentale nella reazione B non c'è nessuna coincidenza e quindi siamo noi che dobbiamo fare l'algebra dopo che la reazione è già avvenuta la reazione non aspetta la nostra algebra per avvenire avviene e basta e si forma ciò che vuole venire e di conseguenza se la vogliamo proprio bilanciare qui ci devono essere due atomi di cromo e di conseguenza qui ne devo mettere due e di ossigeni devo avere 3 per 2 6 più 1 7 quindi è già bilanciata bastava aggiungere un 2 ok quindi detto ciò questa non è una regola per ottenere le formule di ossiacidi non esiste una regola che ci dice si prende dell'anidride ci si fa un'addizione algebrica cioè si somma H2O e il risultato dell'operazione aritmetica è la formula dell'osso acido dopo magari avere opportunamente semplificato non è così non è assolutamente così se uno adotta questo criterio matematico puramente matematico senza sapere la chimica vera in molti casi otterrà dei risultati completamente sbagliati la chimica non è qualcosa che si fa con i risultati delle operazioni la chimica è completamente diversa dalla matematica allora detto ciò andiamo a vedere questo numero di ossidazione del cromo nell'acido cromico siccome qui gli ossigeni sono 4 4 per 2 8 meno 2 6 quindi che cosa troviamo troviamo che nell'anidride cromica il cromo aveva il numero di ossidazione più 6 e nell'acido adesso formato il cromo continua ad avere numero di ossidazione più 6 cioè ritroviamo quello che sta scritto nel testo della domanda il non metallo nel passare da anidride a osso acido conserva lo stesso numero di ossidazione questo è molto utile quindi qui che cosa dobbiamo fare dobbiamo ricavare il numero di ossidazione del boro dall'acido borico e poi ricavarci tutti i numeri di ossidazione del boro nei vari ossidi alcuni esistenti alcuni no e trovare quello esistente e quello che è addizionato all'acqua dall'acido borico un'ultima cosa forse un po' di chimica non fa male le reazioni in cui gli ossoacidi formano cioè in cui gli anidridi formano ossoacidi possono anche essere invertite per esempio se io riscaldo ad alta temperatura l'idrossido di alluminio anzi no dobbiamo parlare di ossi acidi quindi va bene nei quali prendiamo l'acido fosforico che abbiamo già visto allora se per esempio noi scaldiamo ad alta temperatura l'H3PO4 temperature molto alte questo potremo fare la reazione inversa cioè in cui l'acqua e l'anidride si formano come prodotti quindi avremo acqua e avremo anidride fosforica e come nel caso del problema numero 10 anche qui avremo che il fosforo mantiene lo stesso numero di ossidazione quindi se qui il numero di ossidazione è 4 per 2,8 meno 3,5 del fosforo 4 ossigeni per 2,8 meno 3,5 allora anche qui siamo sicuri che dovrà avere numero di ossidazione 5 questa anidride fosforica fosforico fosforica e un modo per fare quadrare questo conto è per lo meno per ottenere la formula minima siccome l'ossigeno deve avere numero di ossidazione meno 2 allora la formula basterà per trovare x e y scambiare gli indici e così troviamo se gli indici ci sono numeri primi tra loro come 2 e il 5 troviamo la formula minima P2 o 5 questa è minima quindi nulla ci garantisce che sia anche la formula reale dell'anidride fosforica tant'è vero che l'anidride fosforica ha molecole che contengono 4 atomi di fosforo e non 2 e infatti la formula molecolare vera reale cioè esistono veramente delle molecole di anidride fosforica la cui formula è P4 O10 però già è tanto se noi riusciamo a trovare la formula minima che è anche quella che in molti casi viene più utilizzata questo è tutto ora chiunque di voi sarà in grado di rispondere correttamente a 10 domande su 10 e prendere 10